Buonasera, benvenuti sul report Eventi Misteriosi. Sono di ritorno da una passeggiata serale con degli amici e vi ho da raccontare un avvistamento fresco fresco di giornata, anzi di serata. Allora, stavamo passeggiando quando a un certo punto un mio amico mi ha detto «Ma che cosa sono quelle luci in fila nel cielo che camminano?» E sulla nostra testa c'erano queste luci, ne abbiamo contate una quindicina, a distanza regolare, non come in questa foto. Proprio quelle che abbiamo visto noi erano simili a queste, ma invece quelle erano a distanza assolutamente regolare e non emettevano rumore. A un certo punto hanno cominciato a spegnersi, a cominciare dalla prima, dalla prima della fila, e così tutte le altre fino a scomparire. Non erano molto alte nel cielo, finché non sono scomparse tutte, quindi. Questo è l'avvistamento. Non ho altro da aggiungere. Quindi, diciamo che sembra quasi che ci hanno voluto salutare in questa serata di Natale molto particolare di quest'epoca in cui l'uomo materialista non crede più tanto allo straordinario, allo spirito. quello era infatti lo stato d'animo nostro, un po' di tristezza, un po' di... e chissà, forse ci hanno voluto salutare. E quindi, niente, alla prossima!